Il titolo del seminario richiama in realtà uno degli argomenti che è stato affrontato in questo progetto europeo che si chiama Innovain e che si va a concludere fra un paio di mesi, alla fine dell'anno, dopo un quadriennio. Il progetto è un progetto molto ampio che riguarda aspetti sia di patologia che di genetica che di tecnica culturale e anche e soprattutto di trasferimento dell'innovazione. Mi viene da dire che è uno dei pochissimi progetti specifici per la viticoltura che la comunità economica europea ha finanziato, nel senso che non ci sono delle call specifiche per la vite e in questo caso, ripeto, è stata un'occasione abbastanza rara, c'era un bando che riguardava specificamente la vite. Quindi siamo entrati in questo progetto con altri 26 partner, è un progetto, ripeto, molto ampio che sta arrivando a conclusione e che evidentemente, credo, darà alcune risposte su diversi interrogativi. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo avuto un ruolo importante, io in particolare ero il leader di uno dei cosiddetti work package, ma al di là di questo direi che dovrebbe essere qualcosa che cerca un po' di fissare il punto delle conoscenze. Io mi scuso un po' in anticipo, ma siccome le cose da fare sono veramente molte e noi presenteremo a Tolosa fra un mese anche, diciamo, faremo il convegno finale di questo progetto, alcune delle diapositive che vedrete sono in realtà in inglese, perché sinceramente stavo lavorando su due fronti, per cui vedrete alcune diapositive in italiano e alcune in inglese. Allora, ci ho detto, vedete il titolo del seminario è modulazione della maturazione, inviti si finisce nel contributo del progetto Innovine e ovviamente il titolo si spiega essenzialmente col fatto che, soprattutto su spinta di cambio climatico, diverse regioni viticole, non solo europee, ma direi mondiali, hanno questa esigenza di modulare in molti casi la maturazione in modo tale da pilotarla verso un decorso più favorevole. Allora, per essere, per entrare un po' nel merito, questo è un grafico molto bello, molto usato, che, diciamo così, vi fa vedere alcune cose note, ovvero questo è la maturazione essenzialmente del grappolo e quindi dell'uva, questa retta verticale, vedete l'invaiatura, e a parte il fatto che esteticamente è molto bello, però qui una cosa importante è questa, vedete su questa barra ci sono vari componenti dell'uva di grande importanza, tartarico, acidi trascinamici, metacitivazine, malato, zuccheri, antociani e composti aromatici. Allora, il problema è che, come vedete, l'accumulo di questi componenti avviene in periodi di tempo che sono sfasati, per esempio il tartarico si accumula abbastanza presto rispetto al malico, poi entrambi evidentemente segnano il passo dopo l'invaiatura, ma anche dopo l'invaiatura non è che avvenga tutto in un colpo, nel senso che vedete qui, cromaticamente in maniera molto elegante, si fa vedere che l'acido diventa piano piano colorato, si accumula zucchero e dopo arriva il colore e poi arrivano gli aromi, quindi diciamo che c'è una successione temporale del preciso. Ecco, allora, questo mi dà anche l'occasione di spiegare che cosa vuol dire, diciamo, il disaccoppiare la maturazione, perché questa è una terminologia un po' ostica effettivamente, ci arriviamo subito. Un esempio tecnico pratico, questo è un grafico carino, a mio modo di vedere, che è riferito alla maturazione di cabernet sull'ignore in Napa Valley, negli Stati Uniti, dove c'è sia il decorso di maturazione in funzione del grado BRICS, vedete, della parte aromatica che dà le caratteristiche di fruttato, sia della parte che nel cabernet dà le caratteristiche del vegetale, che sappiamo essere una componente molto importante per questo motivo. Ora, è del tutto evidente che oggi, mediamente, la raccolta, la vendemmia, viene fatta in prossimità di una gradazione zuccherina di 24-25 BRICS, in cui vedete le caratteristiche del fruttato sono al massimo, e c'è ancora una buona componente vegetale, come deve peraltro essere in questo tipo di vitigno e di uva. Ora, il problema nasce dal fatto che cambio climatico significa molte volte avere nello stesso lasso di tempo sommatorie termiche più elevate, il che significa che fatalmente la maturazione si anticipa, ma in questo caso, per esempio, anticipare la maturazione significherebbe shiftarsi da questa parte, quindi raggiungere prima quella gradazione zuccherina, e quindi magari in un momento in cui quelle caratteristiche di vegetale sono, per esempio, ancora troppo accettuate, cioè in cui c'è qualcosa di non bilanciato. Un esempio più calzante, lo vedremo subito dopo, è quello che riguarda zuccheri e antociani, però questo vi dà già un'idea del tipo di problematica. Ora, ecco, questa è una cosa sulla quale noi insistiamo sempre tanto, perché purtroppo, molte volte, questo succede anche nei libri di testo, non è che sia concettualmente errato, però dire, per me l'invaiatura è quando l'uva cambia colore, ripeto, non è sbagliato, ma è, diciamo, un po' limitativo del concetto, mi spiego meglio. Vedete, questo è una rossa, naturalmente, era un sangiovese per la verità. Questo acino qua, che vedete, è in una fase traslucida, qui si vede bene in trasparenza addirittura il binacciolo, no, uno dei binaccioli. Se uno chiede, è invaiato o non è invaiato, la risposta dice, beh, senti, guarda, non vedi che non è colorato, quindi non essendo colorato, non è invaiato. Se per l'invaiatura intendiamo la comparsa del colore, ma quell'acino lì, in realtà, una volta che noi lo tocchiamo, sentiamo che è soffice, e una volta che lo stacchiamo e misuriamo la gradazione zuccherina, vediamo che ha già 7, 8, 9, 2x. Quindi allora significa che quell'acino non è invaiato se per l'invaiatura intendiamo la comparsa del colore, ma è pienamente invaiato se per l'invaiatura intendiamo, invece, l'intenerimento o l'inizio dell'accumulo zuccherino. Quindi questo è significativo, perché? Perché in questa diapositiva c'è anche la, diciamo, spiegazione di quello che è il disaccoppiamento della maturazione. Cioè, mi spiego, in qualsiasi vitigno rosso, la maturazione nel senso di intenerimento e inizio dell'accumulo zuccherino precedono sempre l'inizio dell'accumulo del colore. Lo vedete qui. Questo comincia ad accumulare già zucchero, ma non è ancora colorato. Il colore arriverà fra un po', vedete che qui comincia ad arrivare, ma arriva qualche giorno dopo. Quindi allora c'è una sequenza temporale, su base genetica, che dice rammollimento, zucchero, colore e poi eventualmente aumento di volume. Ma il colore è tardivo rispetto all'incremento dello zucchero di alcuni giorni. Allora, disaccoppiare significherebbe cercare di spostare questo equilibrio, cioè di dire, è possibile ritardare per esempio l'accumulo zuccherino, ma al tempo stesso fare in modo che il colore anche non sia ritardato. Perché capite, un conto è dire spostiamo tutti in avanti, un conto è dire, no, io voglio ritardare un parametro senza ritardare l'altro. Il che significa naturalmente che ci mettiamo in un'ottica non certo semplice, perché ritardare solamente in maniera selettiva l'accumulo di un componente, senza ritardare quello di altri componenti, è chiaramente un obiettivo non semplice. Quindi i problemi sarebbero, o solo, a nostro modo di vedere, se in un'uva nera, rossa, insomma, maturazione zuccherina troppo anticipata, il quadro polifenotico e aromatico ancora non ottimale. Fa caldo, accumuliamo tanto calore, l'accumulo zuccherino è rapido, arriviamo ai primi di agosto già con una graduazione alcolica molto importante, ma al tempo stesso tutto il resto è ancora insufficiente. Credo che sia un problema abbastanza classico. Nei bianchi il problema riguarda naturalmente il rapporto zuccheri-acidità, soprattutto, ovvero, più caldo rispetto al solito abbiamo la difficoltà, che è drammatica per la verità in alcuni ritini, del mantenimento dell'acidità di alcuni profumi freschi, che vengono fatalmente sostituiti da profumi un pochettino, che non sono più tanto profumi, ma sono profumi molto di maturo. Poi c'è una questione di logistica del cantiere di vendemmi e del conferimento, perché alle volte si va addirittura a dei calendari di maturazione che sono veramente così anticipati da avere poi problematiche di conferimento di prodotti in rapporto all'apertura delle cantine, cose che conoscete tutti molto meglio del sottoscritto. A questo punto, se questi sono i problemi, gli obiettivi quali possono essere? Questo è il primo che io vado a elencarvi, è quello più importante e più difficile, cioè rallentare l'accumulo zuccherino disaccoppiandola da quello dei polifenoli, degli antociani particolari. È possibile? Non è possibile? Lo vedremo. Nelle uve bianche salvaguardare l'acidità, senza naturalmente penalizzare troppo zuccheri e profumi primari, cioè non è che a costo di mantenere la freschezza in termini di acidità poi mi devo accontentare di un prodotto che non ha né profumi né zuccheri, questo è chiaro. Più in generale, ecco, mi piace molto questo ultimo obiettivo, cioè si tratta un pochettino di decomprimere la maturazione e posticipare, diciamo, un pochettino tutto quanto in ciclo veseptativo. Anche qui è possibile o è ancora una sorta di miraggio? Cerchiamo allora nell'ambito anche del progetto Innovain di riassumere quelli che sono stati i principali contributi. Allora, strumenti e tecniche per arrivare a questi traguardi. Allora, prima di tutto una nota di buonsenso e la nota di buonsenso è quella che vedete espressa nel primo punto perché a volte capita anche di sentire ma il mio vigneto matura talmente presto, matura così presto che non riesco ad avere quelle caratteristiche che vorrei avere. Tenete tutti presente, lo sapete, che la velocità di maturazione è anche molto condizionata dal carico produttivo. Cioè se ho una pianta molto scarica, evidentemente la maturazione spesso e volte è accelerata e se ci aggiungete al fatto che la pianta sia scarica anche un deconso climatico caldo, il tutto può arrivare a dei livelli preoccupanti. Per cui direi, prima ancora di pensare a cose strane, ecco, facciamo una riflessione sul fatto che non si abbia un vigneto che è, diciamo, sottodimensionato in termini produttivi rispetto a quello che vorrebbe essere un equilibrio ottimale. Non vorrei sembrare banale, in alcuni casi questi anticipi di maturazione possono essere in qualche modo di sotti essenzialmente lasciando qualche gemma in più e producendo un po' di più in modo tale che la pianta vada in equilibrio. Ecco, quindi da questo punto di vista è sempre molta saggezza nel cercare di arrivare alle soluzioni più sofisticate solo quando siamo sicuri che quelle tradizionali non funzionano. Tra le soluzioni, diciamo, che abbiamo le innovative anche in omaggio del progetto Innovain, nuovo materiale genetico oppure attingimento alla biodiversità esistente. sapete che oggi la parola biodiversità è una delle parole chiave della ricerca viticola e quindi a questo punto ci si può chiedere un vecchio campo collezione a vitigni autotoni poco usati ma non è che in mezzo a quei vitigni autotoni magari c'è un vitigno che si comporta meglio nei confronti, che ne so, del mantenimento dell'acidità nel tempo rispetto ai vitigni che io sto coltivando. Quindi è un quesito ragionevole. Poi parleremo anche abbastanza diffusamente di tecniche mirate di defogliazione. Mirate significa che quando le applico non le applico per defogliare basta ma le applico per indurre determinati cambiamenti nel corso della maturazione, utilizzo di antitraspiranti vi farò vedere giusto un esempio e poi una cosa un po' nuova cioè ci stiamo anche un po' dedicando al tema di valutare gli effetti di potature invernali molto tardive potature che diventano quasi potature primaverili e alcuni risultati preliminari sono veramente interessanti. Allora è chiaro che il progetto, ripeto, io oggi qui non sono a presentare solo il nostro di lavoro dovrei fare una sintesi del lavoro di tutti i partner che hanno contribuito a questo argomento quindi adesso vado così rapidamente anche a farvi vedere qualche flash del lavoro che è stato fatto anche da altri. Allora su vedete gli spagnoli, un gruppo spagnolo molto bravo lavorato su Tempraniglio una varietà importante per loro cercando di andare appunto a affrontare il tema dell'accumulo zuccherino e di quello del colore cioè l'obiettivo è ci piacerebbe tanto rallentare il primo ma non rallentare il secondo. Allora loro hanno selezionato delle accessioni quindi nuove varietà o nuovi cloni in realtà all'interno di Tempraniglio che sono quelli che vedete qui numerati ma la cosa carina che hanno fatto è che in un esperimento in condizioni controllate vedete hanno imposto per tutte queste accessioni due regimi termici diversi un regime termico diciamo temperatura moderata 24 gradi giorno 14 notte e un regime termico più caldo 28-18 allora vedete non si sta guardando qui il risultato di temperature estreme però immaginate voi ogni giorno c'è un differenziale di 8 gradi di temperatura in più e se ci pensate che questa temperatura si accumula evidentemente a fine stagione questo fa differenza allora un primo dato vedete io adesso qui non sto a spiegarvi il grafico ma vi do giusto l'informativa più di carattere applicativo un dato scontato se permettete come definizione allora vedete qui il numero di giorni per andare in questo caso dalla scusate dalla legazione all'invaiatura i giorni che passano nel periodo compreso fra le giorni di invaiatura allora vedete che è chiaro che più fa caldo i histogrammi scuri vedete meno giorni servano per coprire quel tipo di intervallo di tempo cioè c'è un raccorciamento del ciclo il che vale più o meno per tutte quante le accessioni vedete che mediamente il barra nera è più corta di quella bianca anche se tutto sommato pare di vedere che questa cosa valga di più nella fase che va dall'allegazione all'invaiatura che non successivamente vedete dall'invaiatura in poi sembra che questo tipo di controllo si perda un po' per esempio ci sono dei casi come questo in cui sembra esserci non ci siano delle differenze oppure anche in questo caso oppure anche in questo caso la cosa però più bella di questo studio è questa questa mi è molto piaciuta anche personalmente come diciamo ricercatore in questo senso ovvero quando questi autori hanno messo in traffico guardate antociali su Briggs quindi su Grado Duccherino per i due regimi termici ecco voi vedete chiaramente che questi sono tutti i dati del regime caldo questi pallino vuoto bianco sono i dati del regime diciamo meno caldo e vedete però che se io a un certo punto prendo il valore di 20 Briggs vado su in verticale vedete che la quantità di colore formata a quella gradazione zuccherina nel regime mediamente caldo è nettamente inferiore a quella che forma questo regime invece più fresco ecco allora questo e siccome queste due pendenze sono molto diverse allora io comincio a crederci che tutto sommato questo accumulo di caldo ad un certo punto sia un qualche cosa che paradossalmente veramente disaccoppia la faccenda ovvero rende l'accumulo di colore a parità di Briggs più difficile o più lento o comunque in qualche modo lo vado ostacolare rispetto ad un regime termico meno caldo questi sono dati importanti questi confermano essenzialmente lo stesso quadro questi sono i grafici di prima immaginateli per tutte quante le accessioni che questi ricercatori spaglioli hanno valutato vedete che c'è sempre mediamente a parte un caso o alcuni casi come questo c'è sempre una buona divergenza dipendenza delle due rette ora entriamo da un punto di vista di materiale genetico questo è quello che è emerso in maniera netta però poi c'è tutta una serie di risultati che invece riguardano la tecnica culturale questo è un altro dato che ci deve far riflettere parecchio vedete il titolo di questa diapositiva e l'imitazione di carbonio modifica moltissimo l'appoppiamento tra zuccheri e colore di nuovo il giochino è sempre quello colore su briggs allora vedete qui ci sono due tesi a confronto una è questa si chiama 12L cosa vuol dire 12L 12L vuol dire 12 foglie sarebbe l'Ips in inglese però immaginate di avere un vigneto con il classico rapporto di un germoglio con 12 foglie e un bel grappolo quindi un rapporto che per quello che abbiamo visto in anni passati è considerato equilibrato e poi avete invece un vigneto che auguro a nessuno di avere mai nella sua carriera di viticoltore cioè un vigneto vedete in cui per motivi vari qui naturalmente noi l'abbiamo fatto apposta c'erano solamente tre foglie su quei germogli a nutrire e a servire un grappolo quindi una ovvia situazione di carenza come viene definita di source cioè di superficie fogliare fotosintetizzate allora a questo punto noi correliamo colore e zucchero per queste due tesi naturalmente questo qui sono le tre foglie e questo qui sono le 12 e vedete naturalmente che man mano che cresce il grado zuccherino la quantità di colore che voi trovate nel trattamento a tre foglie è molto 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 più bassa tant'è vero che vedete questo è il grappolo praticamente quasi a teorica maturazione nelle tre foglie ed è un grappolo ovviamente che parrebbe essere in realtà in vai a tur però qual è l'informazione che noi abbiamo tratto da tutto questo l'informazione è che man mano che sulle vostre viti sui vostri germogli si instaura una carenza di foglia rispetto alla produzione ovvero ci allontaniamo sempre di più da quel numero di 12 foglie per grappolo che dovrebbe essere ottimale ne abbiamo sempre meno più questa limitazione aumenta più la vite investe in zucchero e meno in colore cioè quel poco che fa con le tre foglie con le quattro foglie con le cinque lo investe in zucchero mentre il metabolita secondario colore viene lasciato indietro cioè si crea purtroppo una selettività che penalizza il colore ancora in maggior masura l'insegnamento l'insegnamento è che naturalmente se vogliamo avere le carte in regola per poter sintetizzare tutta la concentrazione di ottociani che ci serve dovremmo evidentemente avere sempre situazioni che più o meno ruotano questa situazione che non so se è ottimale certamente non è limitante a guardare vedete la pendenza di questa retta questo è un risultato direi piuttosto nuovo ecco poi qui non voglio ritornare al passato nel senso che uno disse ma che cosa c'entra la defogliazione precoce di prefioritura in termini di disaccoppiamento della maturazione si apparentemente non c'entra proprio nulla nel senso che noi questa tecnica l'abbiamo proposta ormai alcuni anni fa non per ritardare la maturazione ma per anticiparla per cui a questo punto io devo cercare di togliermi da questo imbarazzo spiegandovi perché faccio comunque un riferimento alla tecnica faccio un riferimento alla tecnica perché proprio entro in Novain noi avevamo anche una prova su Ortrugo l'ultimo Ortrugo è un vicino bianco locale che adesso ha anche come prospettive mercantili un certo interesse perché si riesce a commercializzare piuttosto bene e in questo vigneto di Ortrugo abbiamo confrontato vedete cerco di semplificare diverse tecniche di gestione culturale allora c'era il controllo classico poi c'era la defogliazione precoce prefioritura quindi una defogliazione precoce una defogliazione invece più tardiva la classica defogliazione che si fa diciamo in pre invaiatura poi c'era una tesi di diradamento dei grappoli bt vorrebbe dire punch thinning che era inglese di diradamento dei grappoli e poi c'è il controllo il controllo che è evidentemente non diradato non defogliato allora l'obiettivo in questi vitigni soprattutto in Ortrugo l'Otrugo è veramente un vitigno che non auguro a nessuno in un certo senso di dover affrontare in un clima caldo perché da quello che abbiamo visto in questi anni è un eccezionale come posso dire cioè perde acidità quando fa caldo in maniera spettacolare lo dico come se fosse un fattore positivo in realtà purtroppo non lo è nel senso che soprattutto in estati in cui la temperatura notturna rimane piuttosto elevata e non è raro trovare temperature notturne vicino ai 27-28 gradi in estate purtroppo questo vitigno perde molto rapidamente l'acidità malica e quindi poi va ad un livello inferiore a quei 6,5 grammi litro che dovrebbero essere il minimo per poterne rispettare le caratteristiche di vinificazione che sono al 100% frizzante o spumante per questo vitigno qua allora vedete qui in realtà quello che si è visto è che la tesi del diradamento dei grappoli è abbastanza scontato vedete questo è il grado zuccherino alla vendegna aveva 3 gradi brissi in più rispetto al controllo ma anche la defogliazione precoce aveva 2 gradi e passa in più rispetto al controllo allora uno dice ma cosi l'obiettivo qui qual era era quello comunque di ritardare la perdita di acidità e allora andate a vedere l'acidità e in realtà l'acidità in queste tre tesi è bassa rispetto al controllo allora non è che sto proponendo queste qui rispetto al controllo in questa configurazione però se ci pensate un attimo questo tipo di comportamento può essere utile a fare che cosa allora uno dice a maturazione o l'acidità troppo bassa cosa devo fare devo anticipare la raccolta ma io anticipo la vendegna vabbè anticipo la vendegna supponete voglio anticipare la vendegna nel controllo benissimo ma se anticipo molto la vendegna insomma tiro giù un'uva che ha 17 gradi brissi 17 e mezzo altra questione è dire anticipo la vendegna in questa tesi o in questa tesi in cui siccome arrivo prima durante la stagione ad una gradazione zuccherina elevata io posso in realtà anticipare la vendegna perché ho la finestra temporale per poterlo fare nel senso che da questo punto di vista io posso anche come posso dire avere la possibilità di conciliare ad un certo punto una gradazione zuccherina che comunque è adeguata 20 20,5 e un'acidità che chiaramente sarà più alta perché ho vendegnato almeno una settimana prima cioè in poche parole la tecnica crea lo spazio il calendario per poter anticipare ma questo si crea solo se in un certo senso anticipo l'accumulo zuccherino creandomi appunto questo spazio questa è se volete il concetto è abbastanza banale ma dal punto di vista applicativo è uno dei modi per risolvere il problema ecco poi siccome diciamo siamo cerchiamo di essere anche fantasiosi e al tempo stesso però non ci dimentichiamo dei vecchi concetti di fisiologia della vita che sono sempre validi sempre utilizzando la defogliazione quale può essere un modo per ritardare in questo caso direttamente alla maturazione allora vedete io qui ho ripreso un grafico cui sono molto affezionato perché questo è addirittura un grafico della mia tesi di dottorato che va indietro di circa 25 anni va bene quello che si vede qui vedete fotosintesi di che cosa del tratto basale mediano apicale di un germoglio di vite lungo la stagione allora tutti sappiamo che dall'invaliatura in poi la parte di germoglio che funziona meglio è quella apicale perché perché lì in quel momento sono concentrate le foglie che sono mature ma al tempo stesso non troppo vecchie quindi questo lo sappiamo allora a questo punto presi da una sorta di raptus ci siamo chiesti ma che cosa succede se quindi fatta attenzione specificamente con l'obiettivo di rallentare la maturazione uno fa una defogliazione a un certo punto per esempio di preinvaiatura andando a defogliare non la parte bassa che è la parte tra l'altro che va a schermare i grappoli ma piuttosto la parte alta della chioma facendo quindi una sorta di finestra e andando a rimuovere parte di quelle foglie che in realtà in quel momento sono foglie funzionali ma ripeto l'ottica è quella di rallentare la maturazione quindi da un punto di vista teorico la cosa ci sta in poche parole l'apertura di questa finestra vedete questa è una chioma defogliata meccanicamente di ortrugo proprio defogliata meccanicamente in pre o in posto di un'obiettura non me lo ricordo e si apre questo tipo di finestra fra l'altro quando voi dite all'operatore che deve defogliare una zona in cui non ci sono i grappoli tra le scatole lui ovviamente è molto contento perché capisce che non fa danni e può anche andare più rapido quindi questo è qualcosa che piace sempre molto la cosa da non sottovalutare è che l'intervento evidentemente abbassa la potenzialità fotosintetica della chioma ma siccome non tocca la parte basale che vedete rimane uguale non va ad alterare il microclima dei grappoli questo è particolarmente importante allora questa era l'idea quando si ha un'idea ancora prima di proporla bisogna verificarne gli effetti e la verifica degli effetti non sono solo la verifica degli effetti agronomici la verifica degli effetti è quella degli effetti fisiologici allora noi abbiamo riprodotto vedete in condizioni di vaso la finestra la vedete qui qui c'è una pianta di controllo qui ci sono delle viti che sono state invece defogliate abbiamo messo su le nostre camere i nostri palloni come si vengono definiti ormai da tempo per misurare nell'arco delle 24 ore lo scambio gassoso quindi fotosintesi eccetera la faccio breve guardate cosa succede questi sono dati proprio secondo me molto carini allora a parte l'inglese fotosintesi giornata dell'anno tempo che passa queste sono le frecce in cui abbiamo imposto la defogliazione in questo caso vedete def 1 è una defogliazione più precoce prima dell'invertura def 2 è una defogliazione più tardina guardate però cosa succede dopo le defogliazioni vedete gli andamenti di fotosintesi allora queste qui sono le viti non defogliate il pallino nero queste qui con il triangolino e il quadrato il rombo vuoti sono invece le tesi defogliate vedete che a un certo punto la fotosintesi specifica cioè quella per unità di superficie fogliare schizza verso l'alto nelle tesi defogliate rispetto al controllo questo perché ma perché la vita è un essere che ha una grandissima capacità di compensazione cioè se voi tirate via quel mezzo metro di foglie anche se è abbastanza tardi nella stagione le foglie che rimangono sia un po' sopra ricordate che c'era quel pennacchio di foglie in alto sia sotto tendono a fare che cosa? tendono a fare una sorta di super lavoro per recuperare per compensare rispetto a quello che è stato perso però a noi interessa arrivare a che cosa? arrivare a capire se un intervento del genere è efficace per fare cosa? per rallentare l'accumulo zuccherino senza penalizzare il colore noi dobbiamo non derogare da questo obiettivo allora noi andammo poi a vendemmiare queste viti viti in vaso naturalmente però con una produzione assolutamente degna eccetera eccetera la prima vendemmia fatta il 4 di settembre in questo caso ripeto siamo in vaso quindi l'uomo matura anche prima il dato fu molto soddisfacente perché vedete il controllo aveva già 18 e 8 bricks mentre i due tesi defogliati in particolare quella defogliata dopo l'invaiatura erano indietro e questo è l'espetto sperato cioè rallentare l'accumulo zuccherino al tempo stesso però il bello di questo dato fu che alla stessa data vedete che non c'erano invece delle differenze di colore e di polifenoli totali ecco allora come ricercatore interpreto questo risultato come un qualcosa che conferma la mia ipotesi perché la mia ipotesi era quella di dire io voglio rallentare temporaneamente eventualmente la gradazione zuccherina senza penalizzare il colore bene qui mi dice che ce l'ho fatta poi una settimana dopo siamo andati a vendemmiare anche le due tesi che erano rimaste indietro e vedete che grosso modo qui lo zucchero era stato recuperato uno dice sarebbe stato bello se si fosse avuto anche un ulteriore accumulo di colore sì il problema è che ripeto queste sono viti invaso con un volume di terreno limitato con diciamo delle situazioni non ottimali per certi esperti io non escludo assolutamente che in campo eventualmente queste due tesi che avevano recuperato in termini di zucchero poi non possono presentare anche un miglioramento della colorazione anche perché se vi ricordate dalla curva iniziale ricordate bene il colore di solito arriva un pochettino più tardi rispetto allo zucchero a sto punto il solito discorso ma avete lavorato in vaso il vaso non è rappresentativo del campo e come facciamo sapere se funziona bla 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 allora è ovvio che poi bisogna andare anche in campo in vignetto allora questa è una verifica che ha fatto il mio amico e collega Alberto Pagliotti di Perugia l'abbiamo fatta insieme abbiamo lavorato su diversi vitini vedete questa è una defoliazione che noi chiamiamo apicale perché in realtà la finestra la fate in alto allora vi dico per poter avere dei risultati voi dovete asportare più o meno un mezzo metro in altezza di chioma cioè a circa il 30-35% della superficie fogliare presente in quel momento perché se ne asportate di meno col fatto che la pianta compensa non avete nessun effetto se ne asportate molta di più signori attenzione perché poi il ritardo di maturazione può diventare anche un pelino troppo grave comunque vedete due anni di dati San Giovese lavoro pubblicato tre anni fa ormai e c'è un bel dato di vedete gradazione zuccherina nel defogliato effettivamente era più bassa alla fine non c'erano differenze significative né sul colore né sul polifenone quindi da questo punto di vista direi che l'obiettivo sperimentale metodologico si è tradotto bene anche nella realtà di un metro guardate carina questa cosa qui vedete questa è la curva di maturazione defogliazione ovviamente meccanica nessuno sarebbe così pazzo da proporre una defogliazione manuale in questo caso rispetto al non defogliato e vedete chiaramente come la gradazione di lo zucchero comincia a rallentare subito dopo il momento in cui viene fatta la defogliazione vedete come si distaccano queste due linee ma ancora più bello è questo vedete questa è correlazione di nuovo colore accumulo di colore rispetto alla data rispetto al tempo che passa giove dal primo di agosto e vedete veramente anzi no scusate questo è il rapporto colore bridge quindi quante unità di colore si accumulano per ogni unità di briggs di grado zuccherino e la cosa veramente micidiale in questo caso è che guardate qui fate l'intervento dove c'è la freccia dalla data successiva immediatamente voi vedete che la tesi che è stata defogliata che sarebbe il triangolino ha un rapporto antociani su briggs più favorevole rispetto all'altra e questo qui è questo il momento in cui si è andati a vendegnare in cui questa differenza ancora esisteva ecco questo è direi una dimostrazione molto carina del fatto che l'intervento a un certo punto va a come posso dire limitare l'accumulo di zuccheri in maniera più che proporzionale rispetto ad un'eventuale limitazione del colore e quindi da questo punto di vista ci siamo io questa qui la lascio perdere perché no non la lascio perdere in realtà perché anche qui vi devo dire una cosa interessante allora stessa prova fatta in questo caso su ortrugo in campo questa è una prova veramente molto molto fresca dove andavamo a vedete valutare di nuovo una defogliazione alta preinvaiatura una defogliazione alta di postinvaiatura e il controllo qui ci sono dei graffi un po' scontati la superficie fogliare che cala per forza le togli però ci sono anche delle cose un po' meno scontate nel senso che vedete il peso dell'accino non cambia rimane più o meno uguale il peso del grappolo si riduce un po' perché si riduce un po' ma si riduce un po' perché naturalmente eliminando delle foglie un minimo diciamo di limitazione in peso la potete avere ma la cosa più interessante è questa questo è da due anni di dati allora è chiaro che anche qui si vede c'è una leggera contrazione produttiva perché defogliando un pochettino di limitazione lo mettete e però vedete qui si vede bene un effetto sperato che è questo abbiamo detto che volevamo rallentare e infatti vedete 17,7 contro 19,1 diciamo abbiamo il controllo il pre invaiatura invece è 17,7 solo che qui il problema qual è? il problema vedete che nonostante questo sia 17,7 nella media di due anni purtroppo l'acidità titolabile pur essendo più alta è chiaro che nel controllo non lo era in maniera significativa cioè era già a 5,98 ecco questo vi porta al problema di prima cioè questo vitigno per certi aspetti maledetto quando parliamo di mantenimento dell'acidità vedete purtroppo l'abbiamo ritardato in termini di accumulo zuccherino ma lui evidentemente in termini di acidità se ne è abbastanza fregato perché il valore di acidità non è tanto legato al valore zuccherino ma è legato all'andamento climatico che fa e se fa caldo quell'acidità li cala anche se noi tendiamo a rallentare l'accumulo degli zuccheri questo è un po' un problema che mi sembra di poter dire abbastanza insoluto ecco un dato invece molto carino è questo allora qui c'è il dato di peso relativo della buccia cosa vuol dire quanto incide la buccia sul peso totale dell'acino in percentuale allora voi vedete che qui controllo defogliazione alta pre-invaiatura defogliazione alta post-invaiatura vedete che c'è la tendenza ad aumentare di questo rapporto cioè man mano che voi fate quest'operazione e la fate tardi questo rapporto aumenta cioè voglio dire l'acino tende ad avere più buccia e meno polpa allora in un vigino bianco come dice cosa ce ne frega nel senso che con sul vigino rosso lo apprezzerei però attenzione perché questa caratteristica può tornare comoda anche per altre ragioni per esempio maggiore resistenza alle scottature tanto per intendersi e fisiologicamente si capisce perché perché succede questa cosa e soprattutto sta cosa succede per una defogliazione di post-invaiatura perché quando si forma la buccia dell'acino la buccia dell'acino si forma entro le prime 4-5 settimane dopo la fioritura dopodiché lì buccia non se ne forma più ma io quando faccio soprattutto questo tipo di trattamento su che cosa intervengo quindi io intervengo praticamente solamente su quella che è l'espansione della polpa cioè l'espansione volumetrica per distensione allora è chiaro che a quel punto siccome intervengo solamente su questo fenomeno posso pensare di formare in parte acini più piccoli che hanno una percentuale di buccia superiore potrebbe essere una cosa interessante quando ci sono delle problematiche molto spiccate per esempio di ripeto danno da scottature da bruciature eccetera mi avvio verso la parte finale perché ho già parlato per 45 minuti allora un'ultima tecnica anche questa se volete curiosa che ha dato risultati interessanti è quella di dire come faccio a rallentare la maturazione posso applicare queste sostanze note come antitraspiranti queste sostanze sono sostanze naturali noi abbiamo sempre usato come materiale il pinolene che è una resina estratta dal pino e questi antitraspiranti vengono spruzzati su foglie normalmente sulla foglia diciamo meno sul grappolo perché spruzzati sul grappolo specialmente verso la fine possono darvi anche questo aspetto del grappolo che è un po' inquietante vedete questo qui non è trattato questo è trattato vedete che sono lucidi sono lucidi perché questi prodotti causano essenzialmente un'alterazione delle cere epicuticolari e quindi l'aspetto ceroso dell'acino si perde l'obiettivo anche in questo caso è quello di rallentare una maturazione o disaccoppiare zuccheri e colore ok il ritardante ha un effetto molto noto nel senso che guardate questo è un dato bello però vedete questo è subarbera in campo 2013-2014 guardate un po' non trattato il bianco trattato solo in pre-invaiatura trattato solo in post-invaiatura trattato sia in pre che in post-invaiatura allora vedete un barbera che nel 2013 ne arriva 26 brice un po' capite che non è proprio esattamente quello che ci serve noi preferiremmo avere un barbera che si ferma 23-23 brice e mezzo con 9-10 di acidità che è quello che ci consegne di fare un certo tipo di vino in questo caso il prodotto è stato estremamente efficace nel rallentare la gradazione zuccherina e lo è per forza perché se voi spursate sta roba avete una parziale chiusura stomatica chiudendoci in parte gli stomi abbassi anche il tasso di fotosintesi e crei una limitazione è come se uno facesse una sorta di defogliazione parziale vedete fra l'altro ricorderete anche penso che il 2014 è stato un anno se non sbaglio abbastanza piovoso con una maturazione un po' particolare difficile ma anche nell'annata più piovosa in cui vedete anche il controllo non aveva accumulato tutto questo zucchero il prodotto è stato ugualmente efficace nel rallentare la maturazione che significa che ha un principio di azione non voglio dire universale ma quasi ma il dato bello è un altro ed è questo quando abbiamo messo in grafico vedete ancora una volta guardate solamente questo perché il 2013 ha avuto un effetto molto chiaro questa è la relazione tra colore e grado zuccherino britz allora i pallini vuoti in particolare questi due qui rappresentano questa retta e sono l'antitraspirante dato sia in pre che in post in vettura voi cosa dice questa retta qui se questo è il britz e questo è il colore significa che guardate questa retta qui dove incrocia l'asse delle x qua allora vuol dire quando l'acino trattato con l'antitraspirante aveva più o meno 8 gradi britz da quel punto in avanti ha cominciato ad accumulare colore viceversa vedete l'acido di controllo ha dovuto aspettare i 10 britz prima di cominciare ad accumulare colore e allora questo è un dato interessante perché mi dice che il trattamento in un certo senso ha anticipato la capacità di accumulare colore rispetto a quello che è l'accumulo di grado zuccherino e quindi anche questo tutto sommato va nella direzione giusta chiudo chiudo facendovi vedere proprio una roba molto molto innovativa sinceramente questo non ha neanche molto a che fare con i novai ma ve lo faccio vedere lo stesso perché è una cosa carina stiamo valutando in maniera piuttosto seria e convinta anche cosa può succedere se uno fa una potatura invernale molto tardiva quando dico molto tardiva non intendo a gemma ingrossata intendo addirittura o così vedete qui c'è una vite non potata vedete con i tracci ancora lunghi in cui mediamente lo sviluppo dei germogli aveva raggiunto le due foglie distese cosa succede se a un certo punto potate in questa fase tornando a due gemme con la speronatura oppure addirittura aspettate così tanto per arrivare sempre a due gemme ma chiaramente asportando una quantità di foglie elevata allora è chiaro che se io ponto in questo modo in questo modo quando io vado a potare le mie due gemme basali sono mediamente ancora ferme mentre il controllo potato alla data tradizionale è già molto avanti allora vedete queste tre tesi questo vorrebbe dire potatura invernale classica che ne so febbraio potatura invernale tardiva però vedete tardiva significa mediamente due foglie formate sui germogli oppure addirittura molto tardiva qui ce n'erano cinque di foglie formate sui germogli chiaramente il ciclo poi cosa fa tende a essere via via ritardato mentre questo germoglio del controllo era già in fioritura questo era ancora ben indietro qui qui ne avete uno in invaiatura avanzata qui ne avete uno che sta invaiando e questa tesi invece è ancora verde quindi vedete c'è uno sfasamento interessantissimo alcuni dati questi qui sono impressionanti questo è pinonero provo di pinonero fatta non mi ricordo dove in questo momento ma questo è un cordone speronato standard vedete che è già colorato questo è un cordone speronato con potatura primaverile che è ancora completamente verde quindi stiamo parlando di un sfasamento di maturazione importante fra l'altro interessante in alcuni casi perché è chiaro che adesso la speranza di poter spostare la maturazione in un periodo più fresco dove profumi e alcune sostanze vengono ad essere sintetizzate con maggiore facilità esiste alcuni dati preliminari sono di estremo interesse io purtroppo non ho tempo adesso di spiegarvi quali erano le tesi di potatura specifiche però in questo caso vedete noi abbiamo a parità di grado zuccherino 20 gradi vedete i 20 gradi in almeno due delle tesi che abbiamo confrontato si sono raggiunti con 10 giorni di ritardo così come al tempo stesso anche l'acidità cala evidentemente vedete in questo caso lo stesso livello di acidità lo si è tenuto con 14 giorni di differenza quindi cominciamo a dire delle cose piuttosto importanti chiaramente sai un viticoltore che vede questa cosa pensa di poterla applicare all'inizio rimane sempre un po' interdetto ma dico ma come conto che ci sono già delle foglie però bisogna sempre non avere paura dell'innovazione applicarla in maniera giudiziosa ma personalmente sono convinto che sia una strada anche questa qui di un certo interesse vi ringrazio e se ci sono domande sono qua allora si Stefano sono già arrivate un po' di domande provo a leggerle in in ordine di di apparizione la prima chiede se la defogliazione apicale potrebbe interferire sul corretto aggostamento portando problemi nelle successive annate no assolutamente assolutamente direi di no un po' perché voglio dire ho fatto vedere quel grafico dove c'era quel dato di fotosintesi di compensazione avete visto che la compensazione è molto forte certo mi posso aspettare di avere a livello stagionale che ne so un 10% in meno di sostanze secca ma non credo che questo vada a compromettere diciamo quello che chi è presente ha messo in evidenza certamente non lo va a compromettere in una potatura sperona dove chiaramente la parte basale che dobbiamo mantenere in potatura è già rinficata da un po' ma credo che anche in una potatura guio questo non sia assolutamente il problema bene un'altra domanda chiede se all'aumento di temperatura si associa anche una particolare siccità che quindi porta a una disidratazione del grappolo le manovre illustrate immagino si riferisce alla defogliazione hanno la stessa valenza o vanno introdotte altre considerazioni ovviamente se al problema diciamo della temperatura si aggiunge anche una come posso dire problematica di stress idrico estivo che porta ad una disidratazione come posso dire marcata dell'acino ecco no sinceramente ci andrei un pochettino più cauto perché qui non abbiamo più una pianta che ha la potenzialità comunque di arrivare a maturazione io qui ho una pianta che è bastonata da un lato dalla temperatura dall'altro dallo stress idrico quindi il rischio poi di arrivare comunque ad una maturazione incompleta c'è sempre in questo caso diciamo che tratterei soprattutto la questione dello stress prima ecco poi dopo applicherei qualche cosina d'altro no questa è una domanda estremamente pertinente ed estremamente interessante noi qui stiamo parlando evidentemente di una limitazione di fotosintesi che viene a carico di una chioma che è comunque una chioma efficiente anzi che da questo punto di vista proprio perché è efficiente mi dà il problema di una maturazione che è anche troppo anticipata cioè quando uno stress idrico è molto severo quando veramente picchia duro sappiamo che praticamente può essere il contrario non dobbiamo farci ingannare dal fatto che quello zucchero sale tanto sale tanto perché c'è l'acino che appassisce per cui è una concentrazione di tizi molto bene intanto che magari qualcuno ha ancora la domanda in canna ricordo a tutti i partecipanti che nella sezione documenti è possibile scaricare il pdf della presentazione del professor Poni probabilmente vi è stata già anche inviata direttamente per il mail dalla segreteria comunque è possibile scaricarla direttamente dal pannello di controllo del webinar al momento non vedo altre domande sì il commento che io posso fare è quando si propongono queste tecniche culturali che sono diciamo un po' non solo innovative ma in alcuni casi sono un po' dirompenti il giusto atteggiamento del viticoltore è se vogliamo da un lato ma può anche essere un po' così scettico però la nostra esperienza ci dice che se il viticoltore ha effettivamente quel problema poi va a casa che magari in un angolo abbastanza nascosto del vigneto prova quella tecnica e poi se lui vede con i propri occhi che quella tecnica funziona poi la adotta noi questo lo abbiamo verificato diverse volte per cui guardate io specialmente su questa tecnica di potatura invernale tardiva che fra l'altro io purtroppo non ho avuto modo e tempo di parlarne è anche parzialmente meccanizzabile con alcuni accorgimenti mi pare che la possibilità ove c'è necessità di veramente shiftare il ciclo intero verso un segmento di stagione che per caratteristiche climatiche sarà anche più favorevole per la qualità effettivamente c'è su questo sono abbastanza ottimista e per completare questo aspetto è arrivata intanto una domanda poi passerò anche la parola a Elisa Martelli se in siccità quindi può essere più indicato effettuare un'irrorazione con antitraspiranti beh allora da questo punto di vista mi direi direi che questo non è da fare questo non è da fare per un motivo semplice l'antitraspirante non viene usato da questo punto di vista perché uno dice è un antitraspirante questo qui mi chiude di più gli stomi la pianta diciamo risparga dell'acqua ecco il problema è che su di una pianta che è in siccità quindi che ha già una parziale tesura stomatica chiaramente un prodotto del genere come posso dire certamente non va usato se c'è già uno stress abbastanza pronunciato viceversa se la domanda è posso pensare di utilizzarlo alla concentrazione dovuta con le odute diciamo norme anche protocollari nel senso che vanno spruzzate certe zone di chioma per cercare di far risparmiare ad una vite che sta bene una certa quota traspiratoria certamente sì aggiungo di più noi abbiamo sempre visto che date su piante non in stress intendo dire ma piante che stanno bene e che però consumano tanta acqua questo prodotto è in grado di limitare la traspirazione un po' di più rispetto alla fotosintesi cioè ti risparmia acqua e al tempo stesso la fotosintesi è limitata un po' meno in poche parole ti aumenta quella che viene chiamata efficienza di uso dell'acqua quindi la risposta è sì se io devo cercare di far risparmiare la chioma un po' di traspirazione per evitare che poi nella stagione più calda vada in stress no se invece si intende l'utilizzo su viti che sono già stressate anche per un altro motivo perché c'è già una chiusura stomatica parziale gli do il prodotto li faccio chiudere totalmente e a quel punto con stomi chiusi non vado più da nessuna parte una raccomandazione non superate usando il prodotto che abbiamo usato noi nelle prove che è il pinolene noto come vapor guard come prodotto commerciale non superate la dose del 2% di principio attivo perché non è che aumentando la dose si ottiene più effetto aumentando la dose a un certo punto si spendono solo soldi in più senza avere maggiore effetto quindi state tra l'1 e il 2% di concentrazione di concentrazione di concentrazione che risponde un po' di concentrazione e di concentrazione che risponde in più e di concentrazione Grazie.